Beh, ragazzi, ci vediamo. Ciao. Salve! Scusa, giorno. Prego, salve. Senta, volevamo prendere lezioni di sci, se è possibile. Certo che è possibile, come no? Siamo stati l'anno scorso, a dire la verità. Sì. Se potevamo avere lo stesso maestro, ci siamo trovati benissimo dall'anno scorso. Alla grande. Molto bravo. E il nome, scusatemi? Sì, il nome è quello, si chiama Mario. Mario, sì, Mario, Mario. Salve. Serena, scusa, abbiamo qualche maestro che si chiama Mario? Direttore, qua la maggior parte dei maestri si chiama Mario. Ehi, ci affortuna. Qui si chiamano tutti Mario. Qualche altro dettaglio? Sì. Dunque, mi ricordo che era alto, no? Alto e Bruno. Alto e Bruno. Io devo andare, scappo. Arrivederci, ciao. Salve. Salve. Alto e Bruno, ma qua sono tutti alto e Bruno praticamente. Senta, adesso che siamo tra uomini, diciamo, lo posso dire. A dire la verità, mi ricordo che aveva tre palle. Sì. Aveva tre palle, tre palle. Sì. Scusate, ma come fate a sapere che aveva tre palle? Eh, che sì, sì. Mentre stavamo sciando l'anno scorso, è passato un altro maestro e ha detto, Ciao Mario, come vanno i tre coglioni? Quello sicuramente ce l'aveva. È lui, è lui. Non credo che ce ne stanno altri. Eh, magari sarebbe un fenomeno proprio. Io ho intentato a dati, quindi ho fatto qualche maestro. Sì. Grazie, mare. Grazie, grazie. Riusciti. Grazie a tutti